Covid, 3 morti e 2.660 nuovi contagi aumentano i pazienti in terapia intensiva, ma calano i ricoveri in area medica. Oltre 1.000 i guariti. Dona un giubbotto nella zona di guerra, abruzzese e ucraino diventano amici grazie al ritrovamento di un vecchio abbonamento dell'autobus. La storia del fotografo Tullio D'Ambroso. Fondi sulla residenza universitaria di Pescara, adesso il PD chiede di accelerare i consiglieri regionali e comunali in pressing sulla maggioranza di centro-destra. Donne, giornata mondiale della salute, cure gratuite a Teramo e Sant'Omero fino al 26 aprile. L'assessore Nicoletta Veril, grande impegno dell'Abruzzo. Il più cordiale e ben ritrovati, edizione serale del TGA, il nostro telegiornale d'Abruzzo. L'avete sentito dai titoli, 3 morti e 2.660 nuovi casi. Questi i numeri del Covid nelle ultime 24 ore in Abruzzo, il servizio di Sara del Vecchio. La pandemia da Covid-19 sembra non voler dare tregua in Abruzzo, anche e soprattutto a causa della diffusione delle nuove varianti. Oggi si registrano 2.660 nuovi positivi su 2.938 tamponi molecolari e 11.574 test antigenici effettuati. Tre sono purtroppo i deceduti, uno in provincia dell'Aquila, uno in quella di Chieti e uno in provincia di Teramo. 304.984 sono i guariti, più 1.020 rispetto alla giornata di ieri. 52.235 gli attualmente positivi, più 1.636 rispetto a ieri. Sul fronte ospedaliero si registra un calo di ricoveri in area medica. Sono 319, quindi meno 3 rispetto alla giornata di ieri, ma un aumento in terapia intensiva. 13, quindi più 3 rispetto a ieri. Mentre 51.903 sono i positivi in isolamento domiciliare. E cambiamo argomento. I consiglieri regionali e comunali del PD chiedono alla maggioranza di centrodestra di accelerare l'iter per accedere ai fondi sulla residenza universitaria di Pescara. Vediamo. La realizzazione della nuova residenza universitaria a Pescara sarà possibile grazie ai fondi di 467 milioni di euro, ma i tempi sono stretti, ricorda il PD, sia i consiglieri regionali che quelli comunali. Dopo l'ex Ferrotel, anche Palazzo Clerico di Corso Vittorio Emanuele potrebbe diventare una residenza. La proposta è stata avanzata proprio dai consiglieri comunali del PD. È un bando che ha pubblicato il MIUR il 16 febbraio. Bisogna correre perché è un'opportunità notevolissima. Sono 467 milioni di euro, 300 milioni di fondi del PNRR. Il 40% di questi fondi andrà a regioni abruzzesi. C'è la possibilità quindi di realizzare nuove strutture per residenze universitarie, quindi con costi calmierati per studenti meritevoli di borsi di studio e che hanno bisogno appunto di avere alloggi per poter studiare. La cosa che dispiace è notare che, malgrado si avvicini, siamo a meno di un mese dal primo scadere del bando, non ci sono iniziative della Regione del Comune su questo punto di vista. Noi abbiamo sollecitato il Comune con l'ordine del giorno che abbiamo fatto approvare il Consiglio Comunale perché si agisca celermente. Davvero questa opportunità non può essere perduta, anche perché la disponibilità di alloggi universitari è un attrattore fondamentale per la scelta universitaria, perché l'università è un elemento centrale nello sviluppo della città, perché anche è una questione fondamentale di diritto allo studio. Senza la disponibilità di alloggi universitari molti studenti non possono permetterselo, quindi c'è in gioco il nostro futuro, Pescara non può perdere questa occasione. Non tarda ad arrivare la replica di Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale che tramite una nota fa sapere che Regione, Comune e Azienda per il diritto allo studio si sono già attivati per la ricerca di edifici esistenti e i tempi scadono il 31 gennaio 2023. Restiamo a Pescara perché il Comune è presente il report sulle violazioni ambientali con particolare riferimento all'abbandono dei rifiuti. Vediamo. Un cittadino oggetta i rifiuti in modo errato e allo stesso tempo scatta foto per mostrare le irregolarità. Le telecamere però lo incastrano. C'è addirittura quello di un cittadino in via Mezzanotte. Via Mezzanotte è una delle vie che è stata particolarmente controllata perché venivano continue segnalazioni, quindi i nostri ausiliari si sono appostati e hanno avuto modo di vedere che un cittadino prendeva le buste, le apriva e gettava tutto per terra. Era lo stesso che poi si accingeva a fare le fotografie da mandare nei vari giornali online, al Comune e ad Ambienta. Il report 2021 sulle violazioni ambientali riguardanti l'abbandono e il conferimento irregolare di rifiuti è stato presentato dal Comune di Pescara anche per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole. In particolare è stato tracciato un bilancio sull'attività di controllo e sanzionatoria svolta nel corso dell'anno 2021 dal Servizio Ausiliari di Ambiente S.P.A. 1.084 le sanzioni elevate per un importo totale di 106.950 euro. Un discorso non repressivo da fare nei confronti di coloro che non si comportano correttamente, ma sicuramente di sensibilità, cercando di sensibilizzare queste persone che non sono solo di Pescara, ma sono anche dei comuni limitrofi, ad un comportamento più corretto, che è a favore del decoro cittadino e di tutte quelle persone che sono la maggioranza e che si comportano correttamente. Il fenomeno è aumentato ancora di più quando si sono estesi i sistemi di raccolta porta a porta, perché il sistema di raccolta porta a porta ha portato all'eliminazione dei cassoni stradali, sia nelle città hanno i limitrofi, mi rifiorisco a San Giovanni Tiatino, Spoltore, Francavilla, sia in diverse tante zone ormai della nostra città. Quindi la persona che magari non vuole effettuare una raccolta puntuale e corretta del rifiuto, distinguendolo e conferendolo in giorni precisi come da calendario, ha ritenuto più semplice mettere tutto assieme e andare a conferire in quelle zone dove ancora insiste il cassone stradale, che però è limitato ad un numero ben preciso di persone. Cambiamo argomento, continuano su tutto il territorio abruzzese le visite gratuite per le donne in occasione della giornata mondiale della salute della donna. Cure gratuite previste fino al 26 aprile. Chiara Bonatti. Continuano le visite gratuite per le donne in tutto il territorio regionale, una settimana in occasione della giornata mondiale della salute della donna dedicato a promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura femminile. Cure di diverso tipo anche sul territorio terramano, sia l'ospedale Mazzini che l'ospedale di Santomero hanno aderito all'iniziativa, permettendo così alle donne di ricevere assistenza gratuita fino a martedì 26 aprile. La nostra regione ha portato avanti un piano regionale attraverso dei tavoli tecnici che abbiamo istituito in regione, abbiamo anche portato una formazione nella nostra regione che porta proprio avanti degli obiettivi importanti per la medicina di genere. Si è parlato anche dell'evoluzione che ci sarà nell'ambito del nostro sistema sanitario nella nostra regione perché abbiamo parlato della sanità del territorio. Questo è stato un tema importante perché si sposta l'attenzione dall'ospedale al territorio, o meglio ancora, quell'integrazione ospedale-territorio. Un pensiero anche per le donne che lavorano nel settore sanitario, che rappresentano il 67% dell'organico in Abruzzo nelle strutture ospedaliere. Anche nella nostra regione il 67% degli operatori sanitari è una percentuale molto alta, una percentuale coperta dalle donne. Quindi le donne nell'ambito sanitario chiedono in modo particolare un'attenzione per quello che può essere anche un modo di operare, di avere più spazi, spazi anche un domani per i propri figli, avere degli asili in idio. Quindi mettere a disposizione sia a livello strutturale ma sia a livello culturale tutto ciò che può essere una presa in carico del problema donna, del problema a livello femminile nell'ambito sanitario. E adesso vi raccontiamo con il nostro Giancarlo Falconi una storia di solidarietà che riguarda Teramo ma anche e soprattutto l'Ucraina. Vediamo. Esistono quelle storie che fanno tanti giri, tanti chilometri, poi puoi tornare indietro. Esistono quelle storie di solidarietà, esistono quelle storie che a raccontarle quasi non ci si crede. Eppure un abbonamento all'interno di Giumbotto è arrivato in una zona dove ci sono state le bombe. Ci racconta? È successo questo che noi abbiamo partecipato alla raccolta del materiale e dei beni da mandare in Ucraina per assistere queste persone che purtroppo sono state colpite da questo evento così importante, così drammatico. E in mezzo a questi materiali che abbiamo mandato c'erano anche dei giubbotti. All'interno di questi giubbotti c'era un mio vecchio abbonamento del tram. Tanti chili fa. Tanti chili fa, bravo, perché nel frattempo il giubbino era diventato largo e quindi pur se era nuovo l'ho mandato comunque così. E l'abbonamento è rimasto lì. Io infatti non riuscivo a trovarlo. Dove è arrivato il giubbotto e l'abbonamento? Il giubbotto è naturalmente partito qui dall'associazione Cherigma ed è arrivato in pieno territorio ucraino. Quindi adesso non sappiamo se è dalle parti di Chievo o comunque in un'altra zona dell'Ucraina. È comunque sicuro che è arrivato all'interno del territorio ucraino. Che cosa è accaduto? È accaduto una cosa molto semplice che questo signore che ha preso questo giubbotto e dice di essersi bruciato, nella traduzione probabilmente questo termine non è corretto e praticamente ha messo le mani dentro le tasche del giubbotto e ha trovato questo abbonamento. Lo voleva restituire nonostante le bombe, nonostante la guerra, nonostante tutto? Sì, probabilmente lo voleva restituire o più semplicemente voleva ringraziare chi aveva donato questo indumento. E attraverso la rete ha provato a contattarmi e grazie appunto ai contatti che ci sono su Facebook e su Instagram siamo riusciti a metterci in contatto. E lui mi ha voluto ringraziare per questo gesto che noi abbiamo fatto in maniera del tutto spontanea e tranquilla. Quanto scalda questa storia? Scalda tanto se pensiamo che tutta questa guerra tra l'altro è incentrata sul discorso del gas, del riscaldamento, dell'abbassare la temperatura e nel suo caso penso che scaldi tanto, sia a livello fisico ma anche a livello umano. Quattro anni per costruire la prima scuola dell'infanzia a Contrada San Benedetto a Teramo dopo otto mesi dall'inugurazione è ancora circondata dalle erbacce ma soprattutto è priva di tende parasole. I bambini sono costretti a spostarsi e indossare occhiali da sole. Vediamo. La storia della scuola di infanzia di collaterato, anzi di Contrada San Benedetto, la conosciamo un po' tutti. Problematiche per la costruzione, ritardi nei lavori, fino all'inaugurazione nel settembre del 2021. Sembrava finita come il racconto di una normale lentezza amministrativa e invece non è stato così perché basta guardare le nostre spalle e dove doveva sorgere un giardino, dove doveva sorgere un orto botanico, in realtà c'è soltanto erbaccia e non c'è cura. Ma soprattutto i ragazzini, i bambini che vengono ospitati qui, che vengono a scuola, che cercano di crescere attraverso quello che dovrebbe essere il buon esempio amministrativo, sono costretti ad ogni effluvo, ad ogni raggio di sole del dio Elio a doversi spostare dalle aule fino ad arrivare alla prima ombra. Questo perché non sono stati previsti ancora, non c'è ancora la possibilità di avere delle tende, normalissime tende parasole, per impedire ovviamente i raggi di sole e infastidire i piccoli occhi dei bambini. E quindi qual è la soluzione? O il comune di Teramo finalmente dopo otto mesi riesce a mettere a norma, tra virgolette, con tutti i vari servizi questa scuola, o provvede a fornire gli occhiali da sole appunto i bambini, che sono ospiti di questa prima scuola, primo edificio antisismico a Prutino. Siamo a Cologna Spiaggia, oltre un milione di euro per consolidare l'argine sud del fiume Tordino. Lino nazionale. C'è della gabbionata protezione dell'argine sud del fiume Tordino, quasi all'altezza dell'azienda di produzione di calcestruzzo. Ad accorgersi del cedimento sono stati gli abitanti della zona, che ora temono che il crollo della massicciata di protezione possa rappresentare un pericolo per tutto l'abitato e per le coltivazioni agricole in caso di piena. Donato Ranalli, del comitato cittadino di Cologna Spiaggia, ha scoperto che l'opera, realizzata quasi quattro anni fa, presenta dei grossi difetti strutturali. Vediamo che quando le strutture poi non vengono seguiti o i lavori non vengono fatti come dovrebbero essere, eccolo qua che cosa succede. Il fiume sta massacrando l'argine, sta erodendo al di sotto della gabbionata e questa gabbionata sta collassando dentro al fiume. Questo che significa? Significa che se poco poco piove oppure l'acqua, il fiume si alza di livello, questa gabbionata va dentro al fiume ed fa da trampolino di lancio per uscire fuori. Cioè anziché essere una barriera che protegge la nostra comunità diventa un problema. Le opere di consolidamento e protezione dell'argine sud hanno avuto un costo di oltre un milione di euro. Avrebbero dovuto mettere in sicurezza il fiume, invece oggi rappresentano un serio problema segnalato all'amministrazione comunale di Roseto e alla provincia. Oggi non abbiamo la certezza di chi ha la competenza di questo argine. Cioè veniamo un po', come si dice, spostati da una parte e l'altra della pubblica amministrazione. Certo è che bisognerebbe trovare soluzione. Io mi auguro che quando si insedierà questo consiglio di quartiere a breve, veramente i punti di sicurezza della nostra comunità verranno portati all'attenzione. E devono essere i primi problemi ad essere risolto se c'è una cosa di cui Cologna ha bisogno e della sicurezza. E oggi questi aspetti non vengono considerati assolutamente. Per evitare rischi il corso dell'acqua che ora devia sulla gabbionata, andrebbe rimesso in asse e riportando quindi il tordino nel suo alveo naturale. Il fiume va manutentato, cioè oggi è inutile che noi facciamo delle opere spot. Bisogna fare qualcosa che sia duraturo, ma soprattutto visionato col tempo. L'amministrazione deve fare certamente qualcosa per dare soluzione, perché non è un problema che lo risolvi oggi e poi lo trascuri. Questo è un problema che va curato sempre, sempre, perché altrimenti se abbiamo un'acqua come succede molte volte, Cologna Spiaggia rischia di grosso. Ci trasferiamo a Tortoreto perché parte la campagna di promozione turistica Alex De Palo. Tortoreto è un'emozione da condividere. Parte con questo slogan alla campagna promozionale estiva che vede impegnati il comune di Tortoreto e l'associazione albergatori per un investimento complessivo di 35 mila euro. Meno locandine manifesti, più campagne social, partendo dalle indicazioni degli utenti che preferiscono Tortoreto ad altre località balneari. La nostra prima campagna promozionale che vede 25 mila euro investiti dall'ente e 10 mila euro investiti dall'associazione albergatori, quindi che contribuisce a questo progetto e li voglio assolutamente ringraziare. Una campagna concertata all'interno del comitato turistico che quindi ha visto anche dei suggerimenti provenienti dall'associazione dei balneatori e che andrà a incrementare la nostra visibilità e quindi ci auguriamo a convertire questa visibilità in maggiori prenotazioni, specialmente nei periodi più difficoltosi e quindi sarà anche una campagna che verrà rimodulata ed aggiornata costantemente in base a quelli che saranno gli andamenti effettivi delle prenotazioni, i target su cui dovremo investire di più. La campagna in partenza nei prossimi giorni utilizzerà anche sistemi di geolocalizzazione, le prenotazioni, le fasce di età dei vacanzieri per fornire proposte mirate verso un target preciso. Assolutamente saranno sia target di geolocalizzazione, quindi in base ai territori che tradizionalmente più hanno frequentato Tortoreto, ma anche di età, quindi di genere anche di persone che vengono a Tortoreto, quindi famiglie indubbiamente, terza età e abbiamo raccolto anche i suggerimenti proprio in questa occasione di coppie senza figli che pare stiano cominciando a preferire Tortoreto ad altre località. Chiaramente il bello di questa campagna è che viene dagli stessi utenti perché, come avete detto anche nel nome, utilizza come veicolo di promozione proprio i commenti, tanti commenti positivi che Tortoreto riceve sui social e nelle recensioni che hanno sorpreso la società che poi ha realizzato la campagna, poiché è estremamente positivi, specie se rapportati al pubblico complessivo. Quindi un numero molto alto di feedback positivi che indubbiamente va a premiare un modello turistico condiviso con gli operatori che evidentemente sta dando i suoi frutti di buona gestione. E adesso siamo a Roseto degli Abruzzi per l'iniziativa La Libertà che venne dal mare. Vediamo. Coniugare la storia con il rispetto dell'ambiente. In occasione della festa della liberazione, il 25 aprile, torna a Roseto la biciclettata organizzata dalle guide del Borsacchio con l'iniziativa La Libertà venne dal mare. Esplorare le bellezze della riserva e dell'oasi della foce del fiume Tordino raccontando anche importanti passaggi di storia legati alla Seconda Guerra Mondiale, come spiega Marco Borgatti. Abbiamo ripreso un'iniziativa che si era fermata da due anni in epoca Covid che si chiama La Libertà che venne dal mare. Un'idea di Franco Sbrolla che oggi non c'è più, che tramite dei libri di Gigino Braccili e di altri autori ha ricostruito la storia della resistenza a Roseto. Allora riproponiamo un binomio fra storia e natura, una bella pedalata dalle ore 10.30 dal Lido d'Abruzzo fino al torrente Borsacchio che è il luogo dove sono avvenuti degli eccidi durante il periodo dell'occupazione. Saranno gli studenti delle scuole superiori a raccontare la storia, ma la biciclettata non sarà appunto circoscritta solo alla zona del Borsacchio. E da lì poi si continuerà fino al ponte del Tordino che da poco è stato riaperto per coniugare anche un aspetto ambientale con un'osservazione naturalistica. La cosa importante è che abbiamo deciso di riprendere questa tradizione, questo evento, perché un gruppo di giovani che hanno meno di 18 anni si sono resi disponibili per raccontare loro questa storia, andando a studiare quel che è successo sul posto ed essendo loro i portavoce della resistenza. ed era per noi importante far parlare dei ragazzi di 16-17 anni su episodi legati alla nostra storia. Ed era questo il nostro ultimo servizio, è tutto anche per questa edizione, grazie per averci scelto, vi auguro buon proseguimento su Vera TV.